io sono daniele penna e questo è l'inizio del salto quantico 2.0 dopo il salto quantico prima versione quello che diversi anni fa iniziai quasi per gioco e che poi ha spopolato sul web diventando uno dei percorsi più importanti di crescita personale ora siamo arrivati al momento di dover fare un passo evolutivo enorme in avanti il salto quantico 1 nacque dalla mia necessità di trasferire a quante più persone possibili tutte le mie conoscenze soprattutto di programmazione neurolinguistica di cui sono uno dei trainer da tantissimi anni avendo studiato con i fondatori con bandler e grinder la programmazione neurolinguistica forse lo sai forse non lo sai ma se non lo sapessi trovi tra l'altro diversi corsi anche in giro e c'è anche un mio corso gratuito sul sul mio youtube è una neuroscienza che permette di comprendere un po il manuale d'uso del nostro cervello della nostra mente e ci insegna a in qualche modo lavorare con la nostra mente gestire le emozioni risolvere i conflitti superare le paure andare oltre i limiti tutta una serie di cose che si possono fare con la pnl e grazie a queste tecniche creai il salto quantico 1 un percorso che si muoveva su mente corpo e anima ma che tendenzialmente il grosso era sulla mente ci sono diverse tecniche ci sono diverse conoscenze se leggerai feedback ci sono persone che hanno avuto dei benefici enormi che hanno cambiato letteralmente la loro vita che hanno superato paure limiti in alcuni casi malattie quindi il salto quantico 1 aveva avuto un successo enorme se non che a un certo punto l'ho interrotto perché in realtà il salto quantico 1 è molto corposo ci sono tanti video tanto materiale però poi un certo punto si ferma si ferma perché perché nello stesso tempo io evolvevo io crescevo io continuavo ad andare oltre e mentre io andavo oltre il mondo cambiava e quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni dalle pandemie a le guerre a chissà che cosa hanno oggettivamente cambiato la mente delle persone quindi c'era necessità di fare qualcosa di completamente nuovo è un po come quando c'è un vecchio software un po come quando c'è windows 5 passi a windows 6 c'è un nuovo software non è soltanto qualche aggiornamento è qualcosa di completamente nuovo è un nuovo sistema operativo ma un nuovo sistema operativo perché perché mentre il primo salto quantico si basava esclusivamente sulla mente quindi si cercava di risolvere qualcosa che avevamo nella mente paura problemi traumi o quel che sia oppure raggiungere obiettivi che avevamo nella mente con tecniche dedicate alla mente che molto spesso funzionano ma siamo sempre nella mente siamo sempre nella mente una mente condizionata da una serie di illusioni come ne parlavo come come li chiamai nel salto quantico 1 oggi li chiamerei addirittura inganni perché prima potevo chiamarle illusioni un po come il mago che che ti ti fa un gioco di prestigio che ti nasconde una carta mentre ti distrae da un'altra parte oggi potremmo addirittura chiamarle inganni veri e propri come ormai abbiamo visto negli ultimi tempi ebbene in questo mondo di inganni la nostra mente nasce e cresce ingannata ingannata e convinta che le cose importanti siano quelle che ci vengono date da un sistema di convinzioni che nasce prima dei nostri genitori poi viene potenziato dalla scuola in alcuni casi dalla religione e soprattutto dalla televisione o dai mass media o dai social che ormai fanno da padrone nella nella crescita nell'evoluzione nella cultura o nell'ignoranza di un bambino e poi anche di un adulto in un mondo di inganni ma soprattutto di distrazioni dove quando cominciai a girare il salto quantico 1 c'erano le statistiche dove la nostra soglia di attenzione era bene o male di circa tre minuti oggi a distanza di pochi anni la soglia di attenzione non è neanche di 30 secondi e infatti siamo abituati nel tempo del salto quantico 1 parliamo 2015 2014 le cose che andavano che funzionavano erano i testi erano i blog erano la gente leggeva articoli e rinteressata a legge articoli anche di decine di pagine di 4 5 6 pagine oggi mentre giro il salto quantico 2 e comanda il mercato tik tok con i video di un minuto o comanda il mercato instagram dove l'attenzione deve essere carpita nel nel momento in cui un dito struscia sul sul nostro telefono quindi il mondo è letteralmente cambiato e non potevo più applicare quelle logiche che applicavano il salto quantico 1 in un nuovo salto quantico ecco perché questa è stata la prima esigenza la seconda esigenza qual è stata in questo periodo che ormai è quasi sette otto anni tra uno e l'altro ho visto cambiare tante cose soprattutto ho visto cambiare nelle persone la loro la loro propensione alla magia la loro propensione al risveglio della propria anima la loro propensione al cercare l'amore rispetto alla paura rispetto alla rabbia rispetto alla tristezza cercare la gioia il benessere la serenità rispetto al senso di colpa e a tante altre o soprattutto all'insoddisfazione all'indifferenza al al non sentirsi giusti non sentirsi in grado non sentirsi di valore tutta una serie di cose che questa società negli ultimi anni ha potenziato in maniera enorme la società moderna potenzia il senso di inadeguatezza potenzia il senso di inferiorità non ci si sente mai abbastanza perché c'è sempre qualcuno che è migliore di noi che è più bravo di noi che è più bello di noi che ha più di noi e noi siamo sempre incapaci rispetto a loro cercando di vivere la nostra vita all'inseguimento di un'idea ipotetica che ci ha dato qualcuno perché lo standard ci viene dato dalla società che ormai è fatto di televisione social media quindi in questo senso di inadeguatezza dove i nostri bisogni sono ottenere di più raggiungere di più essere migliore mostrarsi migliore apparire più bello eccetera eccetera ci siamo completamente dimenticati del motivo per cui siamo arrivati su questa terra del motivo per cui abbiamo un'anima immortale quasi immortale dentro di noi che vorrebbe evolvere che vorrebbe esplicitare la sua funzione nel nostro corpo ma viene letteralmente come possiamo dire viene letteralmente sottomessa dalla mente una mente che viene costantemente potenziata da un sistema di convinzioni è un sistema di distrazioni sempre più grande quindi la nostra fortuna di essere umani che abbiamo un'anima un cuore è una mente che sa ragionare che teoricamente dovrebbe essere intelligente ma che ormai questa intelligenza in questa intelligenza è stata totalmente condizionata dai grandi poteri e da quello che ci gira attorno in un mondo del genere in un in un momento storico del genere in questo momento storico in cui le persone hanno perso il lavoro in cui alcune persone hanno perso i cari in cui i costi aumentano sempre di più in cui c'è sempre più stress in cui è sempre più difficile trovare lavoro in cui c'è tanto 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 negativo nel mondo soprattutto nel mondo occidentale mi è diventato necessario dover fare qualcosa per ricordarvi che noi non siamo soltanto la nostra mente e ve lo sta dicendo uno che per anni ha insegnato solo cose riguardo alla mente ma la mente non ci permette di arrivare alla nostra anima alla nostra vera essenza a quella che può realizzare i miracoli perché i miracoli e le magie non vi sto parlando delle cose alla harry potter non vi sto parlando in termini di esoterismo di passatemi il termine supercazzo le da fuffa ilingo da fuffa corsi vi sto parlando di qualcosa di tangibile di qualcosa di logico di qualcosa di estremamente razionale che esistito per tantissimi anni centinaia di anni fa che è stato bruciato dalla santa inquisizione e che quando siamo bambini lo abbiamo sperimentato lo abbiamo sperimentato fino a che qualcuno ci ha detto no così non si fa adesso devi diventare grande lascia perdere queste cavolate ognuno di noi ha sperimentato a modo suo cose straordinarie nella propria vita spesso e volentieri cose strane cose di cui non poteva neanche parlare perché o sarebbe stato preso in giro dai propri genitori o denigrato o addirittura in alcuni casi messo sotto psicofarmaci ci siamo dimenticati completamente di chi siamo e nel salto quantico 2 voglio aiutarvi a raggiungere l'equilibrio tra mente e anima soprattutto adesso che la mente ha preso la predominanza dell'azione ha preso la predominanza del palcoscenico della nostra vita questo non è facile non è facile perché con il salto quantico 1 abbiamo fatto tanto ma ragionavamo con una mente con tecniche mentali per superare problemi mentali quando in realtà ci sono dei modi molto più semplici e veloci per poter bypassare la mente e aiutare la mente stessa a risolvere le sue questioni i suoi irrisolti le sue paure i suoi limiti sui blocchi le sue credenze valori bisogni quelli che non ti permettono di ottenere quello che davvero vuoi che proprio che probabilmente non sai neanche che cosa davvero vuoi perché probabilmente nella maggior parte dei casi ciò che pensi di volere quello che ti ha indotto la televisione i genitori le tue mancanze le tue voglie di rivendicazione di vendetto di chissà che cosa con il salto quantico 2 vorrò parlare alla tua anima con il salto quantico 2 io voglio diventare il migliore amico della tua anima e allo stesso tempo voglio diventare l'alleato della tua mente in maniera tale che mente e anima attraverso quello che faremo assieme se ti permetterai di volerlo fare assieme di percorrere con me questa via in maniera tale che mente e anima possano diventare un tutt'uno possano essere alleati e non nemici la mente spesso ha paura che tu riacceda alla tua anima che tu evolva la tua anima che tu rientri in contatto con la tua anima perché ha paura che se l'anima si risvegliasse se l'anima si rianimasse pensiamo a questo termine quando è interessante la parola noi abbiamo un termine quando si va in ospedale e si sta male veniamo rianimati non ricorpati pensiamo a questo perché se uno sta morendo nel corpo ha bisogno di essere rianimato e non ricorpato sarebbe più logico no come l'anima non se la fila nessuno però quando stiamo per morire abbiamo bisogno dell'anima che rianimi il corpo perché lo sanno che l'unica speranza per ritornare in vita perché l'anima è quella che può davvero ammalarti ucciderti e farti ritornare in vita se finalmente la rianimassi cioè le dessi nutrimento ebbene il salto quantico 2 vorrà dare nutrimento alla tua anima tanto per dare nutrimento alla tua mente basta che accendi qualunque televisione o qualunque social o qualunque altra cosa che trovi su youtube daranno nutrimento alla tua mente troverai motivatori che ti diranno tu vali tu riesci raggiungi un obiettivo ti aiuterò io a raggiungerlo la maserati la lamborghini i soldi le donne gli uomini le ville tutto è possibile chiedi e ti sarà dato sì ok di quelli ce ne quanti ne vuoi prova vedi se funzionano se poi non funzionano fatti qualche domanda e magari ritorna qui quando la tua anima vorrà essere rianimata saprà che qui troverà il suo nutrimento qui troverà qualcuno che parlerà la sua lingua e che riuscirà a tramutare la sua lingua in maniera tale che la tua mente possa capirla in maniera tale che in modo totalmente razionale tu possa passare da ragionare solo con la testa basandoti su quello che il mondo vuole che tu faccia e arrivare attraverso la testa a rianimare la tua anima a risvegliarla e insieme a poter far accadere le cose far accadere le cose in modo magico perché non ci dimentichiamo che quando senti cose strane come guarigioni miracolose persone che dovevano morire in sei mesi e invece sono ancora vive e non si sa per quale strano miracolo sia successo i miracoli esistono esistono vengono chiamati miracoli vengono chiamati miracoli tutte quelle cose che non possono essere spiegate dalla mente cosciente certo la mente cosciente non può spiegare determinate cose la mente razionale la mente condizionata che deve essere condizionata su determinate logiche non può comprendere che cosa sono i miracoli ma l'anima sì perché per lei non sono miracoli e la normalità ed è questo a cui voglio farti riaccedere e questo è lì dove voglio portarti a ricordare che cosa in grado di fare la tua anima a ritornare nel mondo della magia in cui abbiamo vissuto quando eravamo piccini prima che ci spegnessero tutto a dare nutrimento a tutte quelle parti che forse qualcuno di voi ha avuto accesso ha avuto delle esperienze ha avuto dei fenomeni ha vissuto in qualche maniera ma se l'è dovuto tenere per sé perché sennò sarebbe stato preso per matto peggio ancora denigrato è bloccato da questa società o isolato da questa società come si dice bisogna fare bel viso a cattivo gioco come si dice in puglia attacca il ciuccio dove vuole il padrone cioè si mostriamoci per come il padrone vuole che noi ci mostriamo da piccoli ci dovevamo mostrare per come i genitori volevano che noi ci mostrassimo da grandi dobbiamo mostrarci per come la società vuole che noi ci mostrassimo ma quando ci mostreremo per come davvero siamo dentro di noi questo è il salto quantico 2 questo è il momento questo è il momento in cui finalmente la tua anima potrà risvegliarsi troverà un amico troverà un alleato è un alleato che non andrà in guerra ma che andrà a comunicare con la lingua della mente e assieme la tua mente la tua anima e me potremo ricominciare passo dopo passo razionalità dopo razionalità conoscenza dopo conoscenza esperimento dopo esperimento potremmo ritornare nel mondo della magia una magia che non sto parlando ripeto di far apparire cose che non esistono sto parlando della magia vera quella che possiamo fare nel nostro corpo attorno a noi nella nostra famiglia con le persone con cui ci relazioniamo a distanza o dentro di noi a tutti i livelli lo so che è difficile credermi ma se non mi credi questa è la tua mente condizionata ma so benissimo che c'è una parte della tua anima che sentendo le mie parole ha teso l'orecchio e sta dicendo ops vuoi vedere che questo davvero ci riesce vuoi vedere che forse questo personaggio qui riesce a trovare il modo per rianimarmi vuoi vedere che forse attraverso questa via riusciamo davvero a non buttare questa vita in con quello che stiamo facendo ma dare un senso più ampio a questa vita dare un senso alla nostra esistenza terrena piccola minima limitata ma dargli un senso enorme impareremo a non avere più paura della morte impareremo a comprendere l'importanza dei sogni e come questi possano essere il modo migliore per poter comunicare velocemente con la nostra anima e partiremo proprio da questo ti farò vedere già gli esperimenti che abbiamo fatto i piccoli miracoli che già stanno accadendo non te li farò vedere io ti mostrerò quello che già accaduto alle persone a quelli che prima di te hanno cominciato e si sono avviati su questa via semplicemente ti chiedo di permetterti di farlo non devi credere a me io non sono nessuno il mio nome non è neanche importante l'unica cosa che ti posso dire il mio impegno e la mia promessa e lo sto facendo non a te mente cosciente che so benissimo che quella che cliccherà su youtube per schippare questo video per ritornarci ma sto parlando alla tua anima alla tua anima dico io ti prometto che ti nutrirò ti rianimerò ti darò la forza per poter compiere i miracoli nel corpo in cui tu hai scelto di vivere questa vita e farò tutto ciò che sarà in mio potere per far sì che i condizionamenti che hanno condizionato la tua mente si possano liberare si possano sciogliere si possono eliminare in maniera tale che la tua mente ritorni quella primordiale quella che insieme all'anima potranno trasformare la tua vita in qualcosa di meraviglioso una vita in cui avrà senso esistere avrà senso amare avrà senso essere sereni avrà senso trovare e vivere nella pace interiore e con questo terreno in questo terreno senza i condizionamenti esterni ottenere tutto ciò che vorrai quindi a chi è rivolto il salto quantico 2 direi a tutti quelli che provano un senso di insoddisfazione nella loro vita a tutti quelli che sono attanagliati dalle paure o che non comprendono il perché del loro ripete di un eterno ripetersi di relazioni sempre uguali o perché non riescono a ottenere ciò che vogliono o perché sono si sentono ancora limitati e bloccati dal loro passato nei loro traumi da dai limiti dei blocchi dalle dai sensi di colpa o da chissà quali altre emozioni che li attanagliano che li preoccupano che non li fanno vivere serenamente a tutti coloro che hanno compreso che questo mondo non è poi così sano che il continuo rincorrere qualcosa che non raggiungeremo mai e che qualcun altro ci ha detto che dobbiamo rincorrere forse non è l'unico modo di vivere forse esiste un modo migliore di vivere forse possiamo permetterci di vivere nell'amore nella pace nella serenità anziché che nella paura nell'indifferenza o nei limiti o nella nella necessità ma questa nuova via è anche per tutti coloro che vogliono riaccendere e riaccedere alla magia che è dentro di loro cosa intendo per magia intendo innanzitutto riconoscere e imparare il linguaggio della loro anima e sarà la prima parte il salto quantico 2 inizierà così conosceremo il linguaggio dell'anima riaccederemo alla al suo canale il modo più semplice sarà attraverso un canale che è sempre stato sottostimato in cui la società lo sottovaluta lo sminuisce ma che di un'importanza enorme per comprendere meglio noi stessi e per velocizzare la nostra evoluzione ovvero i sogni e gli incubi ma non ti sto parlando solo di quello che puoi trovare in giro anzi spesso quello che puoi trovare in giro è un po artefatto in maniera tale che tu non possa comprendere ciò che la tua anima ti vuole dire ricorda che entrare in contatto con la tua anima rianimarti non conviene a nessuno in questo mondo che ti vuole schiavo soggiogato e sottomesso quindi quello che spesso trovi in giro può essere artefatto o manipolato in maniera tale da non essere esattamente quello che potrà essere che potrà esserti utile per comprendere quello che devi davvero comprendere inizieremo dei sogni per liberare per sciogliere quelle parti di noi nascoste quelle parti di noi dimenticate quelle parti di noi messe appositamente sotto al tappeto ma che continuano a condizionare la nostra vita e le nostre relazioni il nostro successo l'insuccesso da sempre le comprenderemo le capiremo le scioglieremo dopodiché entreremo sempre più in contatto con la nostra magia esperimento dopo esperimento conoscenza dopo conoscenza fino a sperimentare cose che per il mondo comune potranno essere magiche potremo vedere quello che gli altri non vedono sentire quello che gli altri non sentono qualcuno di voi avrà addirittura delle veggenze qualcun altro riuscirà a percepire le persone senza che esse parlino o a vedere molto di più di una persona forse più di quello che lei stessa sa ma prima di tutto tutto questo lo faremo su noi stessi prima diventeremo assolutamente padroni del nostro corpo della nostra anima della nostra mente rientreremo in contatto con tutte e tre quando saremo diventati dei veri maestri di noi stessi potremo farlo anche sugli altri potremo comprendere anche gli altri potremo comprendere non voglio dire aiutare perché aiutare qualcuno presuppone sempre che questo qualcuno ce lo chieda il libero arbitrio ricordiamoci è sempre valido su tutto le magie che accadranno saranno sempre di più non voglio dire che accadranno guarigioni miracolose non voglio dire che accadranno eventi che non potrai neanche raccontare in giro perché sennò sarai preso per matto non voglio dire questo ma ciò che voglio dirti è che il salto quantico non è sicuramente per le persone che sono votate a correre 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 successo 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 immagine 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 dimenticandosi che la loro vita può fermarsi da un momento all'altro e che è tutto quello che stanno inseguendo potrebbe diventare vano inutile da un momento all'altro per quelle persone che vogliono tutto e subito state perdendo tempo anche a guardare solo questo video mi dispiace vi ho rubato 20 minuti del vostro tempo andate da qualche altra parte il salto quantico 2 è una via una via un percorso molto più di un percorso perché una via ma è una via in cui ti posso garantire una cosa non sarai mai più solo o sola perché innanzitutto saremo in migliaia a seguirla sarai preso per mano sarai accompagnato avrai tanti compagni di viaggio avrai tante esperienze con cui confrontarti e soprattutto la tua anima sarà accompagnata da tante altre e non solo perché un'altra parte fondamentale del salto quantico sarà quella di riottenere conoscenze antiche molto antiche di popoli che hanno ottenuto davvero tutto nella storia ottenuto con mezzi modalità credenze che purtroppo a un certo punto della storia hanno dato fastidio a qualcuno e sono stati letteralmente spazzati via bruciati sul rogo o bruciati tutti i testi per cui dopo anni di ricerca di piccoli frammenti dimenticati nelle varie aree del mondo andremo a mettere tutto assieme questo puzzle e avere degli strumenti assolutamente nuovi mai visti prima mai visti prima semplicemente perché il mondo come ti ho detto è governato da un determinato tipo di forze scopriremo che i mondi invisibili non sono una banalità da da esoterismo da quattro soldi ma i mondi invisibili sono molto più concreti di tante altre se pensi lo stesso sogno arriva da un mondo invisibile il tuo sogno non è qui eppure lo vedi lo senti a volte ti muovi che emozioni per questo e arriva da un mondo che non è visibile se non per te quindi questo come tanto altro fa parte di un mondo che c'è stato completamente cancellato e di cui non si può parlare e di cui non parleremo neanche qui su youtube o meglio non in pubblico perché il salto quantico sarà fatto per livelli e si inizierà dai primi livelli e a mano a mano che la tua mente condizionata verrà liberata verrà sciolta potrai permetterti di andare al livello successivo perché il livello successivo ti darà delle conoscenze che solo una mente liberata potrà comprendere una mente condizionata le giudicherà in base ai suoi condizionamenti ed ecco che determinate conoscenze determinate magie determinate esperienze si potranno fare solo a condizione che avrai realmente percorso determinati passi sulla via quindi non è un percorso per tutti non è un semplice percorso in cui ti sparo su youtube 100 video e la gente li vede in maniera distratta o casuale no la prima parte è così ma se grazie alla prima parte ti permetterai di ottenere dei risultati e di liberare la tua mente e cominciare a stare meglio allora sarà in grado per sapere di più per comprendere di più e insieme a quel gruppo di gente che si sarà liberato della mente condizionata e avrà aperto e rianimato la propria anima insieme a loro otterrai conoscenze dimenticate conoscenze cancellate conoscenze distrutte appositamente e soprattutto tutti noi assieme scaveremo un nuovo solco in un terreno che mai nessuno abbattuto oggi amico amica mia ti stai trovando di fronte non soltanto di fronte a un semplice video su youtube come tanti altri ma ti stai trovando di fronte a una scelta a una possibilità alla possibilità di scegliere se continuare la tua vita così come è stata fino ad oggi o trasformare la tua vita in qualcosa di realmente magico e straordinario se la tua scelta sarà stata questa allora continua e come continuare maniera molto semplice la prima cosa come ti ho detto non sarai mai da solo mai da sola quindi avrai un gruppo telegram di supporto dove ci sono già migliaia di persone dove si sta già facendo qualcosa e dove ci sono già i piccoli miracoli i piccoli grandi risultati cosa fare entra nel gruppo telegram che è scritto qui sotto e leggi i messaggi che sono stati pinnati in alto cioè fermati in alto bloccati in alto leggili dal più vecchio al più nuovo perché in base a quando sarai entrato saranno già successe tante altre cose quindi entrerai nel gruppo degli apprendisti gli apprendisti hanno un simbolo che uno scudo una sorta di araldo uno scudo con un caprone con una capra perché perché all'inizio di questo percorso tutti noi siamo un po capre tutte no tutti noi siamo un po pecore tutti noi siamo un po sottomessi a un padrone che ci comanda attraverso l'ignoranza attraverso le distrazioni quindi il primo passo è accettare che siamo delle capre e da capre muoverci 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 verso la conoscenza muoversi verso la liberazione da quel recinto muoversi verso i livelli successivi e come si fa a passare i livelli successivi semplicemente inizia a permetterti di far accadere le cose segui gli esperimenti fai gli esperimenti scrivi ciò che ti arriva ciò che senti e poi avrai sempre più strumenti per poter interpretare capire comprendere sciogliere ottenere migliorare stravolgere cambiare la tua vita completamente in meglio amico o amica mia io sono daniele penna e questo è il salto quantico 2 benvenuti e questo è il salto quantico 2 benvenuti per far accadere i livelli successivi